Non ti ricordo di più quante volte mi hai fatto sto discorso? Vedi, dammi una mano, per favore, te l'ho detto, mi son messo a posto. Erano più piatti che rompevi che lavavi. Comunque non è per questo, e quel personale ce l'ho. E che gli darai ad unire? Altro che bravi a lavare in cucina. Amore, mo c'hai rotte le palle. Vedi da andarsene. Stava a scherzare, dai, lo sai che sono era, perché c'ho bisogno non mi facevo. Ciò da lavorare adesso. Vai via. Torna fra due mesi. Guarda che torno tra due mesi. Vai, vai. Sì, torna, torno. Grazie, Gisela, amico. Grazie a tutti. Grazie a tutti.